Radosec è riuscito a fuggire dall'attacco del gruppo, fingendo una ritirata, ma in realtà era molto più tattica. Fuggendo è riuscito a raccogliere tutte le truppe che erano all'interno della torre, preparando poi un agguato finale nel momento in cui il nostro gruppo sarebbe tornato indietro. E' come se non avesse subito nessun danno all'inizio. Abbiamo un drago, direi che mi prendo l'azione di movimento per stendere il raggio, per gator power. E poi andrei di raggio... Allora, sto pensando perché lui sta a tredicino, però se si mette così lontano mi viene anche da pensare che potrebbe avere abilità da lontano. Se io invece puntassi una guardia e gli facessi un entangling, potrebbe essere una guardia che non fa nulla durante la round. Quindi sì, io faccio gator power e faccio un attacco, un blast con l'entangling infusion, che quindi mi corta zero burn. Quindi sono questi. Di nuovo 32. No, questo qui era quello di prima. Scusa, 27 stavolta. Con 19 per colpire a questa guardia qui. Ah, questa qui? Ok. Lili? Ah, come te ne faccio, ti voglio il giudizio. Pergo quello della distruzione, con gli ultimi due danni. E poi mi casto il favore divino. Ok. Lo vuoi dire. Ti rimane qua l'attacco. Ma la guardia qui, ha il vetto quindi. Eh, come sta messa è con un piede nella fossa. Per come sta messa è un piede nella fossa. Eh? Ok. Anche lì l'ha fatto. Tocca a Dada. Prende fuoco e carica il drago di ghiaccio. Sempre con Bull Rush e tutto. Da qui. Vediamo se colpisce. Che non colpiscono. 19. Quindi io c'ho 20 a filo a filo. Eh, lo dicevo. Quindi Bull Rush. Allora vediamo. Ho fatto 14. Ok. Il drago non viene rimbalzato. Viene scansato via. Allora quindi fa 23, 7. Allora 7 e 7 sono 14. Quindi 23 e 17 sono 40. 57 da un pugno. E dall'altro sono 8. No, 18, 6 e 6 sono 12. E 6 sono 18. Quindi 18 più 36 più 37. E la cosa di ghiaccio esplode. Ok. Opposto. Tocca a lui che si mette a levitare. E lancia Dada una... Vedete agitare una barchetta di ghiaccio. E scaglia... Vedete sotto i piedi di Adagon e anche i vostri comparire delle lastre di ghiaccio. Abbastanza appuntite. Tiratemi di riflessi. L'astre di ghiaccio abbastanza appuntite. Vorrei tirare di spai. Tra... Ok. Poi tirano le riflessi. Eccolo. Vabbè io sicuramente me lo so preso in 2-3. Ah no? Sì per forza. Allora sì. I due nanni e anche lì in realtà prendono colpo. Anche Adai dal colpo. L'ho bello. Ah ok. Che mano adatta colpo scusate. 2 di 6. Beh conto il danno di solito? Fisico. Danno fisico o danno magico? Cioè in realtà sarebbe magico visto che il... Il ghiaccio è magico. Esatto. In realtà sarebbe magico se fosse una spella. Ma è sempre che il ghiaccio non è magico. 4 danni. Quindi dimezzati. E poi però c'è comunque il danno da freddo eh. Allora. Ada prende 2 danni. Anche la tigre prende 2 danni perché l'ha passato il tiro. E il danno da freddo 5 e 6. Prendete 11 danni da freddo. Adesso prendo solo 6. 11 danni da freddo. Quanto? A chi non ha passato il tiro. Chi l'ha passato invece prende semplicemente 5. No. Con 14 non ho capito se ho passato un metro. Ok. E anche gli altri 4... 11 danni. Quindi... Quindi... 12 danni. Perché i danni fisici li riduco di 2. Li riduco di 5. Io li prendo in faccia. Io li riduco. Sono solamente 6 danni. Io li ho subito. Quindi a posto. Aspetta. Io ho ridotto i danni. Ok. Allora. Poi adesso tocca a Turion. Io adesso si che andrei di punire il male. Puliscilo cazzo. Pulire il male. Pulire il male. Sì. Pulire. Pettissimo. Sì sì pulire con Chanteclair. Vieni. E ci sono. Dico ormai la devo usare una volta ogni tanto. Mi è possibile uso anche legame di vino. E metto la spada con fuoco. La spada che cazzo dico la spada. Il martello con fuoco. Quindi vediamo. Vado a provare. Tutto con carica verso il nemico qua. Quello là sotto. E' in volo quindi se mi devi fare la carica. Devi farmi anche poi il tiro di acrobazia per arrivarci. E' 3 metri in volo. Vabbè dai ti aiuta Ate che sei in mezzo. E ti lanci. Faccio di acrobazione non è un problema. Tiro un due venti e basta. Vediamo quanto viene. Ok. Va bene. Oddio. Guarda io tiro col martello. Poi ti dico subito quanto devo mettere. Mi interessa che cosa gli dai comunque con legame di vino. Quale tra le tante abilità che puoi dargli. Un po' cato. 16 danni normali. Non ti sei. Ok quindi in totale. 22. Tocca le guardie. Che attaccano prima Shira. Con 5 colpiscono. Beh ha 14 lei quindi. Le guardie sono sempre deboli però tencano ora. Con sei inutile chiedere. Ok quindi si ritorna su. Thorin che cosa fai? Il drago non c'è più. Il drago a che distanza è da... Rotto. Ah è proprio... Ora c'è un trampolino a forma di Ada. Un trampolino ora. E dall'altra parte c'è Tulio che ha martellato ha fatto scendere il tipo. Io tiro leader power. Ok. Entangling su questo qui davanti a me. Lo vedo diverso. Metto pure un help power va. Mi prendo un punto di burn. Quindi vado a... 15 danni non letali. Quindi più 2. Modifier. E un D6 più 8. Ah questo qui? Ok. Ah quello c'è 8. Cioè quello che dovevo... Oddio questo qua mi sono dimenticato quanto tempo avevi fatto in realtà. Ah si è vero questo è un piede nella posta giusto. Ok. Lily cosa fai? No. Un colpetto a quello davanti a me. Non colpisce. Vai tigre. Io credo in te. Non dovevi credere in lei. Non colpisce. Allora. Tanto al momento fa schifo. Allora. Ada fa la stessa cosa che aveva fatto al drago. Stavolta. Al tipo. Vediamo. Cmedilla raggiunge sì. Ok. Quindi bull rush va. Con la raffica. Ok. Allora lui si ritrova schiantato contro il muro. Ok. Intanto prende un d6 di danno. Allora. Tiro pure il d6. Ok. Sono 50. 77. 97. Ok. Lui sta là a terra. Attualmente. E ha detto uno spalla a spalla. Ok. Tocca a lui. No non è imploso. Non ancora. È imploso tipo quello. Manca poco purtroppo. Non ancora. Comunque. Non è stato il danno di mezzo. Tutti due le. Utilizzate sulle due pozioni. Per guarirsi le ferite. Quindi guarisce. Ok. Da vedere comunque. Nonostante tutto è maciato. Tutto pieno di lividi. E ustioni. Comunque ancora si legge in piedi. Tocca a Turion. Mi avvicino sempre verso di lui. Anche tu in carica oppure. Vai vai vai. Ok. No no è normale. Cammino verso di lui. Prendo. Allora. Faccio un modo di come ho detto. Per afferrarlo. Vabbè. Per afferrarlo. Eh sì. Le guardi intanto. Già si aggirano. E tranne lui che rimane bloccato. Questo qui che cerca di colpire lili. Con nove no. Non ce la fa. E tocca di nuovo a Turin. Allora io mi prendo un attimo per raccogliere il potere. E poi faccio raggio esteso e empowered. Ma ci arrivi? Contro il tizio il boss. Ok. Raggio esteso apposta. 29 per questo tipo di 30 danni puliti. E' bevo schiacciato con una lapide. Di nuovo. Adesso tocca a Lili. Si. Ti nuota. Tu. Si. Si è tornato giusto in tempo. La tigre va su questo qui. Sempre a terra. Quello che è in tanti bloccato. Magari lei riesce a prendere. Prende con il morso. Ma non con l'artiglio. Ehm. Provo da dare anch'io sullo stesso. Che schifo. Facciamo il dendi con i vantaggi e prende il voto maggiore. E non va. Io lo so. Oh donna che sfiga. Dio santa. Mi chiamerò ma sperando. Perché tocca a Dada. Si avvicina qua. Prende attacco di opportunità. Che colpisce. Colpo critico. Edia si conferma. Non conferma. Ma fa un culo. Con. La sua spada lunga. Suona malissimo. Eh la madò. Madò. Hai ragione anche tu. Si eravamo fermato. Eh vabbè. Tipo tirano un altro. Vabbè. Tocca Dada. E fa. E vabbè. Fa i soliti pugni. Cioè il primo non colpisce. Secondo. Terzo e quarto. Sì. Vabbè. Tre cazzottoni. Li ritirati. Uno a uno. ok qui sono rimasti in due si tocca a te già lo so carica fino a qui poi attacchi qua se lo uccidi incalzare grazie di carica sempre diventi e basta non c'è perso delle speranze io ti dico diventi e basta tanto so che è più 5 più quello così è che venire male adesso è finita perché il tipo l'hai ucciso allora hai fatto critico non confermato sì infatti vabbè il primo l'ho colpito sì hai fatto 10 danni però andiamo al secondo con te che tolgo sperando dati migliori che non vedo ecco già qualcosa così va bene no 17 e 14 danni non colpisci toccano a loro che tutti e due attaccano te uno fa critico e l'altro no aspetta non è confermato ok il critico quanto è l'ho sempre bello tipo hai confermato ora prendi oh quanto volte stai tirando prendi 20 danni sì sì lo sta facendo apposta lui ho già fatto lui gli danno critico e l'altro no ho già fatto i tre attacchi ok sono loro ok tocca a thorin io che devo fare blasto blastali tutti blasto quello più vicino a me in maniera come prima cioè senza esteso però con empowered quindi più due all'attacco un di sei più più 8 a chi l'hai fatto su quello questo qui ok quello più b poi lili speriamo di colpire vai potente gatto potente niente potente gatto devo licenziarlo no non colpisci nemmeno critico una volta no no tocca a data che vede la situazione dall'altra parte fa turion qua ci pensi tu e fatti la stessa solita cosa carica burrash io sono sconvolto ok e questa cuccia si rompe comunque è chiaro questa cuccia non esiste più soltanto un ammasso di organi e legno e sangue tocca a thorion colpisco io colpisco vediamo stavolta stavolta che colpisce se può sbagliare qualcosa ok uno non colpisce oddio trenta e sette danni sono si e infatti non avevo capito che quel cazzo faccio non colpire con un trenta ok trenta danni scusa come se li faccio comunque ok poi trenta danni e sette che colpi eh ecco adesso lo vedo allora vediamo trenta e quindi quanto c'è dei dati trenta e quindici ok legge questo qui almeno cento ok allora i due di nuovo provano a colpirti che non vanno e invece quelli provano a colpire ehm lily e il gatto uno uno e diciannove dai lo faccio prendere a lily stavolta il colpo vabbè se vuoi lo do ada quindi almeno mi cambia la vita ok allora quello che ha fatto minacce di critico che non conferma che non conferma mi subisci solo un di dieci di danni otto danni ok tocca a tauren io vado di l'attacco come prima su questo due un di sei più colpisci anche quello esplode lily tocca a te è inutile dire che la tigre non colpisce ormai credo sempre meno ah il 21 e dove sta il 21 ah ok il secondo artiglio si solo il secondo artiglio colpisce dove hai il 21 scuola figlia 2 ah ok con sei già fa 3 danni io adesso sposto invece il mio giudizio no no sotto c'è il secondo artiglio fa 21 con 17 manco come 21 ah ok allora io sposto il giudizio dei danni al tiro per colpire ok perché sennò qua non me ne esco no 16 non credo eh tocca a dada a questo ne faccio solo uno poi mi muovo faccio passetto qua così non prendo attacco di opportunità l'accelerazione gratuita tocca a te turion più 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 si romperà io sono sicuro ok col 10 13 anni vediamo 22 e 13 vabbè li calcolo dopo che danni da fuoco potevo fare gli attenti 2 di 6 però ok vai l'altro vediamo il secondo colpo vediamo dai se spero sempre con colpo urbana ok un misteri si ok mi si pensa a 11 danni ok uno è morto e l'altro pure allora uno prova a colpirti gli altri due provano a colpire ada e la tigre che non colpiscono perché fanno 6 e 6 fanno due quindi tocca a thorin rimasti si due e quello la in fondo in culonia ma tanto è tutto lo scontro che prova a colpirlo ora vediamo se Ada ce la fa io nel contatto vado su questo qui sempre empowered 6 più 8 si ho mancato malissimo si bello vai lili e tigre vediamo se ce la fate vai tigre ok la tigre colpisce con tutti si tutti finalmente che la figlia prende ok allora 5 10 15 ok ok niente ok ok dai ci pensavo da salvarti la giornata ma non è possibile con uno non va però no aspetta 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 ok 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 no 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 pensavo di avere un teamwork ma invece di un altro non è colpa che stai facendo schifo i dati scontrocio non lo so che a crepare se credo pure i miei occhi tra poco cadono quanto ci metti dai oh a posto mi manca solo uno qui che attacca la tigre che attacca la tigre prendo il martello o almeno ci ha provato ok Thorin ti prego fallo fuori ti prego ti prego devi finire il più presto possibile per finire questa angonia ti tiro di nuovo tutto ciò che gli posso tirare quindi empowered col massimo numero di burn che posso aggiungere ai danni quindi ti usi come palla da cannone no vento su Dani il bello è che ha fatto uno che è uno e con la sconfitta di Radosec si chiude il primo modulo della nostra avventura se vi sta piacendo la serie supportatela con un like iscrivetevi commentate con qualsiasi cosa non vi aggradi o vi aggrada se vi sta interessando o colpito qualcosa commentate senza problemi ho anche una pagina instagram facebook iscrivetevi seguitemi dovunque voi vogliate contattatemi per qualsiasi cosa qualsiasi dubbio ci vedremo domenica prossima con l'inizio del secondo modulo alla prossima ciao ciao